E dopo mesi di assenza dalle scuole sono ripresi i campi estivi per bambini e ragazzi. A Sassari un'iniziativa del comune coinvolge 20 plessi scolastici. Il servizio di Giovanni Pinna. Le scuole chiuse durante l'emergenza riaprono per accogliere i piccoli. All'ingresso termoscanner, igienizzazione delle mani e autocertificazioni da compilare. Norme di sicurezza rigide per genitori, visitatori ed educatori, ma anche per gli stessi bambini. Divisi per fasce di età e in gruppetti, si dedicano a laboratori didattici, giochi e tanto sport all'aria aperta e nelle aule continuamente sanificate. Per i bambini con disabilità, programmi personalizzati. L'estate dei bimbi comincia oggi e si concluderà il 31 luglio. Si lavora da lunedì al venerdì in 20 plessi scolastici di tutti i quartieri di Sassari. L'iniziativa è del comune, organizzata in collaborazione con due cooperative sociali e con il comitato territoriale della UISP. Facciamo tantissime attività all'interno del plesso e quindi trascorreranno una mattinata in giocando e anche interagendo con gli altri ragazzi. Seppur mantenendo le distanze di sicurezza con dei piccoli accorgimenti che ci permetteranno di lavorare tranquillamente e di portare i vostri ragazzi all'interno del centro. Le famiglie hanno risposto positivamente, già 257 le iscrizioni e altri due turni da incrementare nei prossimi giorni. Obiettivo dell'assessorato alle attività educative, consentire ai bimbi di recuperare dopo il periodo del covid quelle condizioni di ordinario benessere legate ai diritti dell'infanzia, quali l'incontro fra coetanei, il divertimento, la spensieratezza. Grazie. 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 Grazie.